Weekend d'Arcore per Silvio Berlusconi al lavoro sul progetto di ritorno a Forza Italia. Domani, proprio davanti al suo cancello, i fedelissimi torneranno a manifestare contro i giudici e contro le sentenze che stanno stringendo il leader in una tenaglia. Spazio alla piazza, ai falchi di opposizione, ma anche spazio alle colombe di governo, il pendolo del leader Oscilla, come sempre, mentre il nuovo vecchio partito da rifondare agita il dibattito interno. Verdini e Capezzone lo disegnano come una struttura leggera che si deve autofinanziare sul territorio, grazie ai manager imprenditori chiamati a dirigerla localmente e come nel vecchio statuto del 94 non prevederebbe la figura del segretario. Fuori Alfano, dunque, per il coordinamento qualcuno punta sulla Santanchè, candidata nel voto a Montecitorio di martedì e anche alla vicepresidenza della Camera. Con una maggioranza di larghe intese sarebbe un problema politico se non mi votassero, sfida ai contrari del PD ma anche del PDL. Con lei alla guida la rinascente Forza Italia avrebbe certamente la missione di fare le pulce del governo, un partito cavallo di Troia, pronto a far saltare l'esecutivo in ogni momento, come dice Osvaldo Napoli. Il via al ritorno al passato potrebbe essere già entro fine luglio, con il trasferimento della sede PDL da Via dell'Umiltà alla più economica sede di piazza San Lorenzo in Lucina. Ma in queste ore si infoltisce anche la schiera dei dubbiosi, non solo gli ex AN come Gasparri che conferma tutto il suo scetticismo, i nastri non si riavvolgono ma resterò al fianco di Berlusconi o come Alemanno che punta un nuovo soggetto di destra. Ma anche Fabrizio Cicchitto è fortemente polemico verso la tentazione vintage di Berlusconi, posizione che si intreccia con lo stop agli antigovernativi. C'è una linea che controesca lo scoperto provoca l'ex capogruppo. Senza larga intesa si rischia di coagulare tutti contro Berlusconi. Cicchitto dice di aspettarsi una formalizzazione nelle sedi politiche della scelta di tornare a Forza Italia e teme che il movimento possa tornare alle luce come frutto della rottura con l'esecutivo di uno scontro selvaggio o di tipo elettorale o peggio come una versione aggiornata di Salò. Parole di piombo insomma come quelle rivolte da Cicchitto contro il presidente del Senato Piero Grasso, definito capo tifoso di parte nell'intervista di oggi su Repubblica. Intervento inaccettabile, rispetti l'atteggiamento d'aula del PDL che è stato corretto, insorge anche il presidente e dei senatori Renato Schifani. Perché l'ex commissario antimafia dà l'altolà al PDL. Esprimersi come una forza di opposizione è deleterio, aiuta gli speculatori stranieri. Grasso arriva anche a farsi interprete della volontà del Quirinale, dicendo che se l'etta cadesse Napolitano non escluderà alcuna possibilità per altre possibili coalizioni.